...interessante. Non monotono. Hai un senso di sottile ironia che lavora per te. Ironia? Sì, sottile ironia. Ma... e la tensione? L'ultima volta... È carino. Carino? Sì, carino. Sei un falso di merda. Hai la sola persona al mondo che può dirmelo e sopravvivere. Potresti almeno dirmi se valgo qualcosa. Avanti! Basta dirmi... ...se... se ho un po' di talento o se pensi che stia perdendo tempo. Perché qualche volta io credo che dovrei smettere. Perché... ...dibbi solo quello che pensi. Coraggio. Che cazzo di importanza ha quello che penso io? È un fatto tuo. Voglio dire, tu fai dell'arte perché devi farla. Perché non hai altra scelta, non è questione di talento. Ma è questione che non puoi fare altro che quello. Se vali qualcosa ai 22 anni, perciò chi può saperlo? A chi preme? Pensaresti di lasciar perdere. Se lasci perdere non sei mai stata un'artista dall'inizio. Cristo santo. Se lasci perdere non sei mai stata un'artista dall'inizio. Che cosa cretina da dirsi? Cretina! Ciao, mamma. Non tanto bene. Non sono... Non riesco. Io vorrei tornare a studiare. Non lo so. Potrei tornare per un pochino. No. Io... Io ti ho dovuto. No, io ne ho.